Musica La deposizione di una corona di fiori nella giornata in ricordo delle foibe. Per una memoria condivisa questo è il monito da istituzioni e forze dell'ordine a Catanzaro per come l'ha definita il presidente Roberto Chiuto un pezzo di storia amarissima. In tutte le questure d'Italia noi rinnoviamo questo ricordo annualmente dove in tutte queste realtà è presente una targa e un albero piantumato per ricordare Palatucci che è anche giusto tra i giusti in Israele. Sono oltre 10.000 le persone uccise bisogna ricordare il loro sacrificio affinché quegli orrori non si ripetano mai più. Ma anche un giorno per ricordare chi ha salvato migliaia di ebrei fra loro Giovanni Palatucci un agente di polizia che morì dopo essere stato lui stesso deportato e dichiarato dallo stato di Israele giusto tra le nazioni. Un uomo che ha dato la propria vita per tutelare, per dare protezione ai perseguitati con la piena consapevolezza del rischio che correva. Viene veramente un esempio da additare soprattutto ai ragazzi oggi, un'espressione di grande e concreta solidarietà in una situazione di grande e estrema difficoltà e di rischio sicuro, certo, della propria vita. Ben trovati quindi sette giorni dopo. Il canale è lo stesso e il 12.1.2. Questa è 10. Proviamo a riavvolgere il nastro su quelli che sono i temi principali trattati dalla nostra redazione durante l'arco degli ultimi sette giorni. E giusto appunto Luca Chita, che è l'ex macchina di questa nostra trasmissione, di questo nostro appuntamento, ha voluto fare un esercizio come primo servizio per l'appunto quello della memoria. Una memoria che sembra essere sempre più scarsa, un po' a tutte le latitudini, perché ormai le cose si susseguono in maniera velocissima, la comunicazione è cambiata, i tragedi si consumano sotto i nostri occhi decine di migliaia di morti e questo è qualcosa che sembra essere così lontano da noi perché ormai riusciamo a distrarci. Se la cosa non ci coinvolge direttamente, probabilmente cerchiamo di lenire il dolore cambiando con il telecomando. Invece l'esercizio dell'informazione è quello di provare a entrare nelle vostre case e ricordarvi le cose giuste di ricordare. E proprio prima di cominciare facciamo un piccolo riepilogo internazionale, ancora questo ennesimo dramma che si sta consumando tra Turchia e la Siria, come se già non bastasse in Siria ciò che accade nel quotidiano. E quindi si cercano le tregue per provare a salvare delle vite. La comunità internazionale sì, stanno arrivando gli aiuti, però sembra sempre tutto quanto così diametralmente opposto dal punto di vista anche degli interessi, dal punto di vista del coinvolgimento emotivo, perché sì emotivamente bisognerebbe essere scossi da tutto ciò che accade. E poi ci spostiamo in quella che è l'Iason d'Angere che si sta consumando in Europa, dove ci sono la Francia da una parte, assieme alla Germania, e poi l'Italia sembra essere messa in una fascia secondaria rispetto all'importanza che si ha con l'Unione Europea. A questo la Meloni dice no, ma probabilmente ci sono anche delle politiche di scelte, oppure delle scelte politiche, e chiedo scusa per il giro di parole, per cercare di entrare in quella che è l'Europa che conta, soprattutto condividendo quelli che sono i grandi spazi che probabilmente per lungo tempo abbiamo consumato distrattamente anche ruoli apicali all'interno della stessa Unione. Ma non è certo il momento per un'opposizione che non esiste, che è sfaldata con un centro-sinistra che si lacera dalle elezioni regionali nel Lazio rispetto a quelle della Lombardia dove gli accorti saltano e sono diversi, dove Calenda recita nel Lazio, ma poi invece si scopre che i 5 Stelle stanno col PD nella Lombardia, nonostante poi le infelici uscite anche circa la Calabria del candidato alla presidenza della regione Lombardia. Allora tutto ciò probabilmente dovrebbe farci riflettere e dovrebbe far riflettere alla Calabria perché ha delle opportunità che probabilmente deve cercare di utilizzare il più possibile ma anche assumere delle posizioni da un punto di vista politico circa anche la scelta delle politiche nazionali. Ma proprio per parlare di questo e per entrare nel vivo della trasmissione arriva da Catanzaro questa notizia circa l'autonomia differenziata perché 50 sindaci dicono no. I comuni avamposto della Repubblica ragionano sull'autonomia differenziata. Il disegno di legge proposto dal ministro Calderoli e approvato la scorsa settimana in Consiglio dei Ministri fa scattare l'allarme nei comuni. Non è un caso che ben 57 sindaci della provincia di Catanzaro, ovvero la maggioranza, visto che i comuni sono 80, hanno firmato un documento per dire no all'autonomia differenziata. Nel documento evidenziata la minaccia per l'uguaglianza dei diritti con conseguenze devastanti per la scuola, la sanità, le politiche ambientali ed energetiche, i beni culturali, lo sviluppo delle infrastrutture e fin anche i contratti nazionali di lavoro. Noi crediamo, scrivono i primi cittadini, che i livelli di prestazione non debbano essere solo essenziali ma anche uniformi. Crediamo, conclude infine il documento, che proprio dalle autonomie locali del mezzogiorno possa partire lo slancio per una nuova stagione democratica. Che risvolti avrà l'autonomia differenziata sulla sanità in Calabria? E questa è la vera domanda che gira attorno alla riforma prevista e disciplinata dalla Costituzione, riforma adottata dalla maggioranza di centro-sinistra nel 2000. 23 anni dopo, con un paese totalmente cambiato, l'autonomia differenziata si fa strada, anche se l'attuazione ha preso il via nel 2017, escurso su storico che spazza via gli slogan ma non gli interrogativi. Il presidente della regione Calabria, Roberto Chiuto, ospite della trasmissione Restart, ecco cosa ha detto in merito a un comparto delicato preoccupato dell'emigrazione sanitaria. E noi spendiamo circa 200 milioni all'anno di mobilità sanitaria passiva per i calabresi che non riescono a curarsi in Calabria e vanno a curarsi nelle altre regioni. Quindi una grande ingiustizia che credo rilevi anche ai fini dei diritti essenziali dei cittadini. Assolutamente, previsti dalla Costituzione. Non potersi curare aumenta i divari, certo, per cui sarebbe utile che ci fosse davvero un investimento del Governo nazionale sulla sanità. Intanto, contro l'autonomia differenziata, oggi a Napoli scende in campo l'Anci. Alla manifestazione ha edito l'ospice GL che definisce la riforma uno schiaffo al Sud. Il Comune di Rennes annuncia l'adesione a Lassi, l'Associazione Sindaci del Sud Italia e l'assessore Marta Petrusevic a lanciare la mobilitazione. Dobbiamo, dice, fare rete contro l'autonomia differenziata. Nelle ultime ore a prendere posizione è anche il sindaco sospeso di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. I parlamentari si oppongano, dice, e l'appello a sostenere le regioni più deboli, quale quelle del Sud. Ora, è chiaro che la riflessione va fatta in diversi settori per ciò che riguarda l'autonomia differenziata, calcolando quello che è poi il parametro della spesa storica. La nostra regione è in arretrato rispetto alle altre, diciamo, di mezzo secolo. Ma chissà poi se in questo calcolo della spesa storica, gli oltre 200 milioni di euro in migrazione sanitaria che tantissime famiglie calabresi sfortunate devono continuare a sostenere quotidianamente, perché da ogni dove, rispetto alle cinque province della Calabria, c'è chi fa dei viaggi della speranza per cercare di salvare la vita a propri cari, per cercare di lenire quelle che sono le sofferenze ovviamente di alcuni dei familiari che a turno ovviamente incorrono in queste malattie. Malattie che poi riguardano anche un più ampio ragionamento anche su quello che è il registro dei tumori e sulla capacità oncologica di cura che abbiamo nella nostra regione. Ma questa è una riflessione che va fatta. Va fatta, si è parlato anche di adesioni, di ANCI, dei comuni, delle prime proteste che arrivano. A proposito di ANCI, sappiamo che in Calabria c'è stata la prima fumata nera perché non si è deciso rispetto anche all'amorosità di alcuni comuni, rispetto alla stessa associazione e quindi si sono procrastinate le elezioni del nuovo direttivo ANCI a questo momento. Ricordiamo che la Presidente è affidata a un facente funzioni. Ma per continuare, l'altro appello importante, o meglio un allarme che arriva, arriva dal rapporto di Banca Italia circa il PNRR. Perché da una parte c'è questa mannaia dell'autonomia differenziata che va contrastata, o comunque che va decisa, che va aggiustata, qui va aggiustato il tiro, dall'altra c'è la non capacità che denuncia Banca Italia per le regioni del Sud, per la Calabria in particolare, a poter spendere i fondi del PNRR. Questa è una cosa che noi continuiamo a dire come rete da tantissimo tempo perché le nostre amministrazioni pubbliche non sono organizzate per poter andare incontro a quelle che sono le scadenze inevitabili e la realizzazione dei progetti con la conseguente prosecuzione dal punto di vista dell'iter amministrativo e anche della rendicontazione finale. E questo è un altro dato, visto che già ci sono i campanelli allarme che squillano da più parti anche rispetto ai fondi che arrivano direttamente con i programmi dall'Unione Europea. Ma continuiamo a parlare di un tema che abbiamo sforato già nel primo blocco di servizi, cioè la sanità. Questa volta vi affidiamo con tre servizi il ragionamento che questa settimana abbiamo fatto sulla sanità in Calabria. Ci vorrà del tempo, nessuno ha la bacchetta magica da cui parte il commissario dell'azienda ospedaliera di Cosenza, Vitaliano De Salazar, nell'annunciare i nuovi interventi per riuscire a potenziare l'ospedale Bruzio. Prima emergenza è quella relativa al pronto soccorso, prevista la creazione di nuovi spazi con l'attivazione del lobby e dell'holding area. Nuovi spazi anche per il triage che verrà completamente riorganizzato. I posti letto aumenteranno di 59 unità, passando dagli attuali 24 a 83, ovvero 10 in più in obi, 12 nell'ex area covid, 10 nell'holding area, 15 in caso di sovraffollamento e 12 in medicina d'urgenza. Prevista una nuova sala da 24 posti per pazienti in attesa del risultato post-triage, così come verranno adottate nuove regole di accesso per i parenti. Proprio per i familiari ci sarà un nuovo punto informativo. Non c'è però solo il pronto soccorso. Fra le novità, il trasferimento di oncologia ed ematologia al Mariano Santo con la nascita a Cosenza del polo onco-ematologico. Altro obiettivo è migliorare la funzionalità delle sale operatorie al momento sfruttate al 60%. Sarà riorganizzata inoltre l'area covid e nel suo complesso l'area chirurgica. Miglioramenti che passeranno anche dalla riconversione dell'azienda ospedaliera in policlinico universitario per la nascita del corso di lauree in medicina. Un percorso che passa anche attraverso la collaborazione con l'ASP che garantirà l'integrazione con il 118 attraverso una linea dedicata per le comunicazioni annunziate a 118 e la presenza di un dirigente medico del 118 H12 per le attività pre-triage in relazione a pazienti trasportati da ambulanze del 118. L'ASP è impegnata inoltre a rafforzare la medicina territoriale anche attraverso l'attivazione di una linea che indica al paziente a quale presidio territoriale rivolgersi e tramite rafforzamento di strutture, come ad esempio, le case di comunità. Il tutto per decongestionare il pronto soccorso. Il pronto soccorso devono occupare i pazienti acuti e i codici più impegnativi. Se facciamo questo evitiamo il sovrafforzamento del pronto soccorso, problemi con i pazienti, la sicurezza dei pazienti. Diamo un servizio molto più efficiente, più efficace, soprattutto se sparmiamo risorse. Il capitolo più spinoso certamente riguarda le assunzioni. Nel mese di gennaio ce ne sono state 77, ma ci si sta attivando per arrivare alle 233 previste. L'obiettivo è attraverso questi interventi rendere più attrattivo l'ospedale. Dalle Salazar è arrivato quindi un richiamo alla responsabilità rivolto a tutti per far sì che non accada più ciò che è avvenuto nell'ultimo concorso. Su otto posti disponibili sono stati solo due i medici che si sono presentati. Ci siamo messi a posto rispetto a quelle che erano le raccomandazioni ministeriali nel 2020. Ora sei professionisti, ora la responsabilità è singoli professionisti. A me come commissario era quello che mette in sicurezza il pronto soccorso e dare la possibilità ai professionisti di svolgere il proprio lavoro. Oggi i professionisti hanno queste possibilità. Aspettiamo loro, ma sono molto fiduciosi. C'è un bimbo pronto per venire alla luce e una mamma in attesa di entrare in sala parto. Non è detto però che questo sia sempre possibile nella sanità calabrese, perché la carenza di medici a volta sconfigge anche la forza della vita. Nell'ospedale di Polistena però, proprio alla presenza dei medici cubani, ha fatto sì che ciò non accadesse. Hanno dato un forte impulso alla sanità regina agli oltre 50 medici cubani che hanno preso servizio negli ospedali della provincia. A Polistena, ad esempio, la loro presenza è anche un vero e proprio stimolo anche per i medici italiani. Ottimo perché ci aiuta e ci stimola nel lavoro. Ad esempio in rianimazione noi lavoriamo da soli, un medico con loro, c'è un confronto. Io ad esempio ho un paziente che è arrivato stamattina. Abbiamo discusso con Gustavo Hernandez, che è un nostro collega cubano in aggiunta, e abbiamo discusso sulle modalità, cosa ne pensava. Quindi è uno scambio anche di idee e un confronto. Lui è Edoardo, medico in servizio al pronto soccorso, una moda di lavoro importante e una parola d'ordine, collaborazione. Sono felice di stare qui, insieme ai medici italiani, insieme a un gruppo. Del pronto soccorso, tutti i pazienti, è un po' difficile per tutti, per tutti i pazienti, ma piano piano noi vogliamo aiutare alla sanità calabrese. È stato più volte ribadito e sottolineato, per risolvere le problematiche dell'ospedale di Cosenza bisogna potenziare l'offerta sanitaria dell'intero territorio provinciale per evitare che l'annunziata, in particolar modo il pronto soccorso, possa essere costretto a far fronte anche a patologie curabili in altri presidi. Uno dei centri più importanti in tal senso è sicuramente lo SPOC di Corigliano Rossano. La divisione in due plessi, ovvero il Compagna di Corigliano e il Giannettasio di Rossano, può provocare delle complessità a livello gestionale. La principale problematica però riguarda certamente la carenza di personale. Qualche settimana fa alcuni consiglieri comunali di centrodestra avevano posto l'accento sulla necessità di dotare i due plessi di servizi completamente diversi, rendendole di fatto complementari. In questa fase però non sarebbero previsti dei cambiamenti. Lo SPOC di Corigliano Rossano al momento garantisce due pronto soccorso, un SPOC che è nato su due ospedali, poi ogni ospedale ha una vocazione, non è così. Credo che al momento è difficile poter pensare di riunificare, di fare qualcosa di diverso, se non potenziando quello che c'è. Le criticità della sanità in provincia di Cosenza e in particolar modo del settore ionico potrebbero trovare una concreta risposta nell'ospedale della Sibaritide. I lavori procedono e al di là dei timori venuti fuori nei giorni scorsi, i tempi dovrebbero essere rispettati. La soluzione l'abbiamo da qui a un anno, un anno e mezzo, perché c'è un ospedale della Sibaritide che sta nascendo, anzi è una struttura che è in fase di avanzata esecuzione di lavoro. Per fine 2024, quindi per la fine dell'anno prossimo, pensiamo di avere un grande ospedale che possa dare risposta non solo ai cittadini dell'area Ionica, ma dell'intero convenzorio provinciale e anche della regione di Mitra e della Basilicata, perché è un ospedale che nascerà con 370 posti retti, con branche specialistiche avanzate, sarà dotato di ogni tecnologia moderna. Ora, queste sono tre cartoline concrete, realistiche, che abbiamo provato a mandarvi direttamente a domicilio nelle vostre case, perché siamo partiti dall'annunziata di Cosenza, che è quindi un'app, deve servire un'intera provincia, proprio perché c'è un disservizio che parte da quelle che sono le consultazioni con i medici di base, ma anche con le guardie mediche che non si trovano, oppure interi territori sguarniti di quelli che possono essere i servizi sanitari essenziali. E allora c'è l'ingolfo, perché i pronto soccorso devono servire proprio per trattare quelle che sono più urgenze. Ma c'è un dato importante, questo che sta per arrivare, perché partirà dalla prossima settimana, che è la collaborazione con l'Unical con la nascita della Facoltà di Medicina. E quindi, come ha detto e rimarcato più volte il magnifico rettore, il professor Nicola Leone, c'è un dato confortante, perché tra le altre cose noi siamo l'ultima regione in Italia per aver attivato Facoltà di Medicina rispetto alla popolazione. Abbiamo uno 0,54% su 2 milioni di abitanti, per cui tanto rumore per nulla rispetto alla polemica aperta con Catanzaro, perché mentre la Facoltà di Medicina nasce sotto buoni auspici, perché ci sono già 30 unità di personale che l'Università metterà a disposizione dell'Annunziata e quindi dell'azienda, facendo nascere una sinergia importante con l'Annunziata, con l'IRCA, con il 118, facendo partire poi una Facoltà di Infermieristica dedicata, questo potrebbe dare agio e respiro, in attesa di quella che sarà la struttura. Siamo volati fino alla piana di Gioia Tauro, dove Polissena deve superire ad una mancanza di ospedali e di punti di primo intervento che sono diventati ormai cronicizzati per quello che riguarda quell'area importante, vastissima e molto popolosa. E anche qui c'è l'attesa che possa nascere l'ospedale, che dovrebbe essere ubicato a Palmi, sperando si possono risolvere i problemi, così come ha anche affermato il Presidente Occhiuto, e che quindi possa vedere il via ai lavori che dovrebbe garantire un'area importante, ripeto, per la Calabria, così come, ha messo lo stesso Graziano, c'è necessità di far ultimare i lavori per quello che è il grande ospedale della Sibaritide. Queste sono le speranze che i calabresi non solo si devono augurare, ma che devono tenere sott'occhio per garantire la pressione giusta alla politica che dovrà accelerare i tempi perché tutto ciò avvenga nel più breve tempo possibile. Cambiamo argomento e parliamo di un altro, dei punti deboli e nevralgici della nostra regione, che è quello relativo a un mancato sviluppo che passa anche da una mancata viabilità. Sono numeri bagnati nel sangue, quelli contenuti nel rapporto sulle vittime della Statale 106 negli ultimi dieci anni, presentati nei giorni scorsi dall'Associazione Basta Vittime. Non fredde cifre, ma tristi conteggi di vite spezzate, di famiglie travolte dal dolore. Nel periodo compreso tra il 2013 e il 2022, sono state 205 le vittime della Statale 106, circa 20 di media all'anno. La tendenza negli ultimi tre anni segna un netto peggioramento. Dalle 13 vittime nel 2020, siamo passati dalle 21 del 2021 fino alle 27 dello scorso anno. Tra queste il 76% è costituito da maschi, mentre il 24% da donne. E Cosenza, la provincia più colpita, 33% con 67 vittime, seguita da Reggio Calabria, 28%, Catanzaro, 22% e Crotone, 17%. La fascia d'età più colpita è costituita dai giovani, con età compresa tra i 16 e 25 anni, seguita dagli anziani, ovvero da chi ha un'età maggiore di 66 anni. Fabio Pugliese, responsabile del Comitato Scientifico, Centro Studi, Analisi e Ricerca, ha elencato i comuni più colpiti dal fenomeno della mortalità stradale. La maglia nera spetta a Corigliano Rossano con 32 vittime. Il tratto di statale tra Sibari e Catanzaro risulta il più pericoloso. Negli ultimi dieci anni sono 97 le vittime, una ogni 1,85 km. Oltre ai volumi di traffico elevati, inadatti all'attuale tracciato da Statale 106, tra le principali problematiche rilevate tra le cause del fenomeno della mortalità risultano la strada in pessime condizioni, l'assenza di interventi di messa in sicurezza nei punti più pericolosi al fine di mitigare il fenomeno e la carenza di controllo delle forze dell'ordine che vantano organici sottodimensionati e poche risorse a loro disposizione. Per l'associazione Basta Vittime, uno dei fattori determinanti nel provocare incidenti e morte è l'inauguatezza del tracciato esistente, inadatto a gestire gli attuali volumi di traffico, soprattutto nel periodo estivo. Solo nei mesi di luglio e agosto negli ultimi dieci anni si sono registrate 68 vittime. Ne è servito piazzare i tutor nel tratto Rocca Imperiale-Sibari. Su 45 km di strada negli ultimi dieci anni sono state 26 le vittime in incidenti stradali avvenuti nei tratti non controllati. Automobilisti bloccati da ieri sera su uno dei ponti della Statale 18 nei pressi di San Nicolarcella a causa di un camion che si è ribaltato per il forte vento. Solo questa mattina i vigili del fuoco, approfittando di una breve tregua data dal vento, sono riusciti a tagliare la struttura in ferro incastrata nella ringhiera. Gli ostacoli sono stati rimossi e il transito è stato riattivato a senso unico alternato. Ma per gli automobilisti quella appena trascorsa è stata una notte da incubo, intrappolati su questo tratto di strada dalle 19.30 di ieri sera. Guardate la lunghissima fila di camion e auto che si è formata in entrambe le direzioni. Impossibile percorrere una strada alternativa. Una frana infatti blocca da due anni la vecchia strada provinciale attraverso la quale il traffico nord-sud poteva defluire normalmente e senza disagi. In caso di necessità, poi, impossibile accedere ai presidi sanitari d'urgenza posti a sud del comune di San Nicolarcella come l'ospedale di Praia. La vecchia statale 18 da sotto è chiusa da tempo per una frana che già è successa. Di qua adesso siamo bloccati. Se dovesse passare un'ambulanza di qua non c'è neanche la possibilità di fare un soccorso. Non c'è un'alternativa di passaggio. La Calabria è tagliata in due. Per fare il giro dell'autostrada di là c'è la neve. Da guardia non si passa. Di dove andiamo? Una notte al freddo per chi per oltre 12 ore è rimasto bloccato su questa strada. Io sono dalle 8 ieri sera qua fermo bloccato. Senza nessuno che passa per una coperta, per un caffè, una produzione gironina, non si vede nessuno. Fa freddo, è sotto lo zero. C'è neve. Siamo da ieri e dalle 6 di pomeriggio fermi che non possiamo tornare a casa con il freddo perché non eravamo attrezzati. Insomma, tutti i disagi. La cosa brutta è che una terra così bella come la Calabria, perché è bellissima, tutto il sud è bello, però le infrastrutture mancano. La situazione adesso sta tornando lentamente alla normalità, ma rimane il problema grave e risolto del sistema infrastrutturale di questa regione. Chiaro è, puoi farselo sottolineare dall'automobilista Campano, che questa regione è bellissima, che però soffre di gravi carenze infrastrutturali. Questa è, siamo nel 2023. È una strada statale chiusa per una frana da due anni provinciale. Chiedo scusa, quindi mi correggo, identifico subito l'informazione che stava passando sbagliata. Ma è già accaduto qualche tempo addietro che per un problema, quindi per una frana dovuta alle troppe piogge, troppe poi, per l'amor di Dio, anche il tratto tra guardia e acqua appesa è stato chiuso con l'ennesimo, l'ennesimo disagio per i mezzi pesanti, per gli automobilisti, che ovviamente percorrono quotidianamente, perché bisogna pensare che l'alto Tirreno Cosentino va poi fornito e rifornito i trattamenti alimentari per quello che riguardano le attività commerciali. Quindi c'è un grande traffico su ruota che non può essere sostenuto neanche in quel caso da strade che sono poco più che mulattiere. Quindi questo probabilmente non può certamente segnare un progresso della nostra regione. Questo è chiaro e speriamo che qualcuno vi ponga rimedio, ma continuare così come fanno basta vittime sulla 106, il gruppo che continua da anni in perterrito a dire che questa mattanza deve finire perché quella strada è inateguata, bisogna continuare a tenere la guardia alta. Chiudiamo invece con questo che è l'acronimo, che è ZES, Zone Economiche Speciali. Parte, non parte, cosa succederà? Guardiamoli in questi due servizi. Procedure più semplici e vantaggi economici per rendere competitive le aree industriali della Calabria. Negli uffici del Corapa a San Pietro Lamitino il commissario per la ZES, Giuseppe Romano, ha incontrato i giornalisti per presentare la prima autorizzazione unica rilasciata per un nuovo insediamento industriale in una delle aree comprese nel perimetro della zona economica speciale. Riguarda l'azienda Callipo che ha avuto l'ok in tempi record, da otto giorni. Più che una buona notizia è un miracolo e quindi io sono testimone, sono il miracolato, sono testimone di questo e lo faccio con piacere perché mi auguro che questa notizia venga amplificata in modo che tantissimi colleghi, imprenditori, calabresi, ma soprattutto del nord che hanno molta diffidenza a venire ad investire qui per queste motivazioni di ritardi, di lungaggi, di cose, si incoraggiano e vengono in questa terra meravigliosa. Soddisfatto il commissario per la ZES Giuseppe Romano il quale ha sottolineato che vogliamo che sia il prototipo di quello che è possibile fare in Calabria. Semplificare, accelerare, rendere vantaggioso un investimento aggiunto sono gli obiettivi strategici della ZES. Una sorta di evoluzione copernicana per quello che abbiamo introdotto con lo sportello digitale del commissario di governo che consente all'imprenditore che voglia allocarsi nelle nostre aree di avanzare un'unica istanza che trova accoglimento con un unico provvedimento. Oggi abbiamo voluto dare tangibilità ad un risultato che è quello che l'imprenditore che ha avanzato l'istanza ha avuto quell'accoglimento in un tempo che è di una settimana, quindi un tempo inimmaginabile rispetto agli strumenti ordinari. La zona economica speciale diventa finalmente una realtà. L'azienda di Pippo Callipo è stata la prima ad avere l'autorizzazione unica per realizzare una nuova attività in una delle aree ricadenti nel perimetro della ZES. Procedure completate come è stata evidenziata nel corso della conferenza stampa presso la sede del Corap di San Pietro Lamettino in tempi record una settimana. La semplificazione amministrativa è uno dei presupposti fondamentali per rilanciare le aree industriali, per attrarre gli investimenti e per dare competitività alle aziende che già ci sono sulle aree industriali. Procedure dunque più semplici e vantaggi economici per rendere competitive le aree industriali della Calabria una grande opportunità per le imprese calabresi e non solo. Come imprenditore abbiamo sempre lamentato l'acci lacciuoli, una burocrazia troppo stringente che spesso ha anche frustrato la necessità e anche la voglia di fare impresa. Oggi, come abbiamo potuto vedere, uno dei vantaggi della Rezzessa è quello del commissario di esercitare dei poteri sostitutivi di utilizzare quello che è l'utilizzazione di modalità veloci per consentire e quindi per poter fare con tutti quelli che erano gli enti che dovevano dare comuni, vigili del fuoco, Corap, che dovevano dare le autorizzazioni di bruciare i tempi, di poter in maniera semplificata agire in maniera struttiva e di poter dare un'unica autorizzazione. Io credo che questo sia un grandissimo passo in avanti. Diciamo che la prima parte dello spot è stata girata. Cioè, abbiamo preso ad esempio uno dei più grandi imprenditori calabresi che è Pippo Calibo otto giorni perderà l'autorizzazione. Chiaro è che poi bisognerà proseguire con coloro i quali si susseguiranno nel tempo provando a tentare la carta della ZES della zona economica speciale e che tutti quanti possano ricevere nello stesso tempo breve quello che è accaduto e che questo accorciamento dei tempi burocratici sia dall'inizio alla fine. Perché sappiamo che tantissimi rinunciano anche a dei progetti in rapporto in relazione con il nostro ente regionale proprio perché anche nella fase finale dopo aver realizzato i progetti la rendicontazione insomma, veramente c'è una pressione di lentezza burocratica che ovviamente costringe tantissime persone addirittura a chiudere o a non pensare minimamente di fare impresa alle nostre latitudini. Questo era l'ultimo dei servizi propostovi questa settimana in questo nostro settimanale che per l'appunto si chiama SEVEN proviamo a raccontarvi in via breve i fatti salienti i servizi che maggiormente hanno interessato la nostra redazione giornalistica che ringrazio su tutti a tirio sabato ma tutti quanti i colleghi della redazione come non smetto di ringraziare voi per seguirci e soprattutto chi poi sta dietro a sollecitare tutto ciò che avvenga nella maniera più giusta possibile che è Luca Chito dall'altra parte vi do appuntamento alla prossima settimana nel frattempo come sempre vi consiglio di decidere di restare fermi più possibile sul 12 perché tra i TG e gli approfondimenti proviamo a portare nelle vostre case un po' di giusta informazione alla prossima settimana Grazie a tutti